Tutto è assolutamente possibile Letteralmente Tutto è possibile Però andiamo un attimino a vedere la situazione Allora Fucile besante a paletti Che dovrebbe essere in ovoci la pompa Che da quanto ho intravisto leggermente Dovrebbe avere più o meno il mirino Come Levi Shotgun Quindi non so se sarà una roba di Una roba Una roba abbastanza worth Lama vampirica di Thorne Thorne si è sconfitto e lasciano una lama mitica Quindi mi viene da pensare Che se la droppa Thorne c'è Una katana mitica per tutta la lobby Immagino di sì Immagino che se la droppa Thorne Cioè presumo che ci sia un Thorne In il bunker e quindi suppongo che sia Solo una katana Dopo averlo usato per trafiggere un nemico recupererai lentamente Parte della tua salute Ok perché è una lama vampirica Quindi se io sguaino la gente Mi curo lentamente tipo come se fosse quasi una slurpettina Leggera Ok da vedere No ragazzi questo qua Questo qua Era ovvio che questo qua l'avrebbero rimesso Cioè era impossibile non averlo Nel periodo di Halloween Il lancia zucche ragazzi E se un vampiro non fa abbastanza Halloween Il lancia zucche è fuori magazzino Il lancia lanterna e zucche esplosive Che fanno prendere un brutto spavimento agli avversari Il lancia zucche si trovano a terra Nei forzini normali e rari Nei yolo forzieri Abbattendo i droni volanti Ah quindi pure nelle zone calde GG Ok minchia questo qua ragazzi Lacrimuccia che scende Ripensando Ripensando la prima volta Tipo cinque anni e mezzo fa Ma va bene lo stesso Scopa da strega Anche questa qua Già c'era È un razerete O la scopa da strega fuori magazzino Attiva una scopa da strega Per lanciarti rapidamente in aria E poi pronare verso la superficie Vabbè quindi Il concept sarà Presumo come le vecchie Come le vecchie scope Nel senso che tu la usi Ci avrà 30 secondi di cooldown sicuro Se non qualcosa di più Voli E se la ripremi Scendi in picchiata Senza prendere full damage Quindi questa cosa qua Puoi farci Belle clip per betrick shot Con il check in e quant'altro Hanno messo le caramelle Le caramelle salta E balzo danno Un effetto di gravità ridotto Temporano di bassa gravità Beh quindi tipo la caramella Quella che ti dà la gravità Quella che probabilmente Ti darà un po' di vita Un po' di shield E magari anche il costo Che salta tipo doppio Saranno le stesse caramelle Che abbiamo sempre visto Qua abbiamo degli incarichi Che vabbè Ce ne frega ma non ce ne frega Quindi facendo tutti questi incarichi Della madonna Presumo che andremo a sbloccare Tutto questo ambaradam Hanno messo Jack Skeletron Con effetto È la prima volta che lo mettono no? Ah mi chiama Michael Myers Cioè fa paura Cristo di Dio Questa è la prima volta Che siete Michael Myers Però non mi ricordo Se Jack Skeletron C'era già stato No non c'era mai stato Jack Skeletron Come collab No non ho messo Una lobby completamente nuova Che in realtà Vi dico la verità Secondo me è molto carina Più che altro Vedo che sia la prima volta Che vediamo un cambiamento Così radicale A livello estetico Della lobby Che vi dico la verità In realtà ci sta È molto bello È strano Perché ovviamente Ti devi abituare Lì per lì Perché è tutto un po' È tutto reverse Divo Cioè è tutto tipo Tutto tipo all'opposto Ok Questo presumo che siano Le mappe preferite Quindi il tasto in alto a sinistra E i preferiti Va bene Poi vabbè Solita roba Gioca L'armadietto Presumo che non si è cambiato nulla No è uguale Però se vedete Tipo ogni pulsantino Sono tipo più tondeggianti Quindi sono tipo Molto più Molto più carini in realtà Ci sta Mi sa molto più di Fortnite Così I riquadri in questo modo Ah buonissima Hai rotto il Dai dobbiamo andare subito dentro Tipo non so Dove è il buco? Ma chi è la tua sorella Per Dio Allora ho un RPG No sono morto No sono morto Capito Se muori giuro fai schifo Dead No 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 perco Sigillo Vecchio dal bot Facci ma stai Vedi Tua madre è proprio una S*****a Vemina forza Io ho un loot Sono qua Di verità Guarda cosa c'ho Guarda cosa c'ho Frate non ho niente E' il tattico ovviamente Di questo? No 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 Andiamo Vieni vieni Di dove si entro? Vieni qua Vieni qua Le scale giù Ah duemila di vita quel boss Te lo giuro è immortale Ah no no Quindi prima di aprire il boss Ma no no Aspetta Eccolo All'RPG Snoccato Prissimo Oh che cazzo E' lui 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 Oh E' normale Io non so dove il mio knock Eh l'ho finito L'ho finito Fallo arrivare da me Che ho tipo Nove punti Capi C'è nove Muoio Quattrocento nuove Vai c'è quattro Ah Novantacinque Grazie Qua però deve esserci qualcuno Capi Erano due Quando ho visto io Ah Guardate qua dentro Fidati che c'è Non è E' di vinfi Sarà tipo qui Qua Porca puttata Mamma mia Mi son caga da sotto Mi ha tirato una razzata In fronte Sono diventata John Lennon Per un secondo Ma quindi ora Non ci sono più le armi Mitiche qua Eh no Mi sa di no Te la troppa lui La dragon Sempre però Sì quindi Quindi il bunker nove È calmato così Adesso Cioè non trovi più le armi Mitiche quelle lì Io penso che invece di sì Invece no È però è molto più difficile Come bunker Cioè nel senso In comp però Come funziona C'è il boss lo stesso No non penso Perché se c'è il boss Cioè Non ci sono No non posso Non posso Non posso Non posso Devo farmi i mini Bene bene Forse l'ho hitto 52 No no È un fight perso Questo io non ho build Cioè è un fight perso Sì Non ho build Andrei via A meno che non riesca Entrare nella cache E prendere le cose Oh ho le pizza Ho fatto una cazzata A me salutameli 31 Forse è slurpato Non lo so 170 E non sto trollando C'è il cato No cato Cato O l'ho sceso giù full Ma ora ne deploy What C'è il nonno È vero Non so quanto Devo farlo su Torno un attimo Alla La battiera C'è il docento di razzo Presso Qua è sciato morto Ah Da me C'è C'è Forti Oh C'è Pronto Buonasera Un po' di pescheria Buonasera Dov'è Livy? Lei è già preso Che Buona Te lo giuro Madonna Se c'è una cosa che capiamo A succhiare Livy Shotgun Ve lo giuro Aspettare Potrò un po' Cinque secondi No no capi No 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 Non ho cinque secondi Arrivo arrivo Ci sono Chilling Cento Anded Ti push anche l'altro Ok No c'è un altro team No morto C'è un altro team Traccato uno Non dare vigliaio eh Non ho pure Zero Ok vai Ok ci sono due funghi Ti aspetto Sì sì Beh uno fatelo già Aspetta se non solo Aspetta Eh no no Non posso Nimi box Nimi box 200 Oh Molto bene Cosa hai preso Dai E' un trasplash esotico Anche tu Sì E' un trasplash esotico Te lo giuro Te lo giuro Io cinque splash normali Ma lei che lo riusciamo a terreno se lo prendiamo Io ho sacco di mazza E' a 100 01 Sono andato con la scopa Oh like oh like oh like Non ho tanti mazzo però like Sono caduta Morto uno morto uno Salgo io Non posso buildare Esce 22 44 Una di zona One shot Morto Nice È l'ultimo Scendo Non devo farmi stare dalla zona È salito con la scopa 30 Ti prego devi Ho scato Crackato No 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 Te lo giuro muoio Mio Noi L'hai preso tutto nel bucio Del Zulu Clipping No 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 Ma fine mazza Ma che Che stack era Ma cosa ho visto Ma comunque Ti giuro la katana E wow Infatti Mi dispiaceva tantissimo Quando l'hanno Hanno tolto quella classica Era troppo bella Era troppo divertente Era troppo forte Io rivolgo Grazie a tutti